...di anti-PIMAX perché si va dal meno, dai più fastidiosi al meno fastidiosi. Per il quotidiano, ci vediamo ogni giorno, per quanto riguarda gli altri, per quanto riguarda gli altri. Anti-PIMAX, anche ad esempio, è una sorta di attivizzazione allo stesso. Mentre il PIMAX, o la PIMAX, è il contrario per una attivizzazione costante e continua. Quindi, si prendono di tutto, si abbarano 20 litri, e si ammazzentano, cioè scelgo, si abbarano a preso.